Nuova linea di scarpa da trekking che lanciamo qui alla fiera di Friedrich Schaffen, una forma completamente nuova studiata, una suola con scolpitura completamente nuova e una zeppa in poliuretano bidensità, una tecnologia che viene da uno studio molto approfondito con tecnologie e materiali nuovi, abbiamo sviluppato insieme con un nostro fornitore, con una macchina un po' particolare, abbiamo sviluppato questa nuova tecnologia la quale racchiude una doppia iniezione di poliuretano fatta tutta a stampo chiuso con due materiali e con due densità.